A livello di accoglienza è incredibile, spero veramente in qualche modo di poter dare almeno una piccola parte rispetto a quello che ho ricevuto io perché sarebbe veramente tantissimo. Speriamo che i risultati più possibili per me è veramente un impegno proprio personale più ancora che professionale. Sulla squadra devo dire che oggi sono stati molto bravi i giocatori perché hanno saputo sopperire anche a qualche difficoltà che chiaramente non abbiamo ancora potuto rifinire però è normale perché abbiamo giocato solamente attraverso le partite e lo possiamo fare. Però abbiamo fatto alcune cose molto buone. A livello di gioco indubbiamente possiamo crescere però dietro siamo stati molto solidi, molto precisi. Abbiamo avuto degli spazi importanti che magari non abbiamo utilizzato bene, qualche difficoltà anche nella costruzione del gioco a tratti. Però ci sono le condizioni secondo me per poter fare un buon lavoro, per crescere proprio vistosamente perché l'applicazione dei giocatori è totale e le soluzioni di esposizione anche. Credo che anche sotto quel profilo potremmo crescere anche abbastanza rapidamente. Tirare il freno a mano si fa sempre in tempo. Adesso mi interessava che ci fosse slancio, che ci fosse coraggio a ribaltare l'azione, non a subirla solamente. Ci siamo presentati tantissime volte.